In questa sala, in questa stanza passano vite, aspirazioni, sogni, entusiasmi, delusioni, amarezze. Ce l'ha raccontato il maestro Arnaldo Angelini che la scuola Harmony l'ha fondata oltre 40 anni fa e che per la prima volta in oltre 40 anni è rimasto via da qui per due mesi e mezzo. Questo coronavirus ha messo a dura prova tutta la sopravvivenza delle scuole private di Danza che vivono di questo e questa chiusura comunque ha provocato più di mille disoccupati nuovi. Lei è disposto ad adattarsi a tutte le prescrizioni? Sì, è chiaro, perché se noi insegniamo la disciplina dobbiamo essere prima noi disciplinati, e quindi seguiremo i protocolli.